buona giornata amici da massimo foghetti oggi è sabato 12 marzo 2022 bentrovati alla rassegna stampa di fano tv che cominciamo oggi con una notizia importante una notizia particolare infatti da martedì prossimo per vedere fano tv occorrerà non più sintonizzarsi sul canale 17 ma occorrerà rifare un po tutto il procedimento per risintonizzare i canali e vedere fano tv al canale 19 quindi un'operazione molto semplice che si può fare tranquillamente fano tv al canale 19 non più alle 17 e veniamo subito iniziamo la giornata con il santo del giorno vediamo che è un santo molto noto in tutta italia ma anche nel mondo e san luigi orione è un santo che ha fatto tantissimo per i giovani per i giovani disadattati quelli che vivevano nei marciapiedi quelli che avevano bisogno di assistenza e nel suo nome molti altri poi sacerdoti hanno continuato la sua opera a fano esiste un centro di don orione che si distingue proprio in questi giorni per l'assistenza che sta dando ai profughi che giungono dalla ucraina san luigi orione è nato nel 1872 da una famiglia povera nel piemonte fin da ragazzo ha manifestato il desiderio di dedicarsi alla vita religiosa ha conosciuto don bosco che lo aveva preso con sé a torino e lo aveva coinvolto nelle sue iniziative a favore dei ragazzi che vivevano appunto sui marciapiedi della città entrato in seminario fin da chierico aveva radunato tanti gruppi di giovani disadattati che diverse volte lo avevano messo anche in difficoltà nei guai con le istituzioni ma don orione non si lasciò mai intimorire mai andare ha fondato la piccola casa della divina provvidenza e poi altre case come oratori ospedali e sono tante le opere compiute da don luigi che ora vengono continuate appunto dai confratelli a tutti un a tutte in favore dei giovani quindi un grazie a tutti coloro che nel suo nome continuano la sua opera veniamo alle previsioni del tempo vediamo che oggi il sole sorge alle 6 e 25 e tramonta le 12 alle 18 e 12 le giornate si stanno allungando la giornata sarà stabile e asciutta con nubi irregolari e ampie schiarite in giornata le massime raggiungeranno i 9 10 gradi i 20 fino a moderati da est e sulle coste mentre sull'interno sarà debole da est e sud est una direzione dunque con una temperatura piuttosto mite ci stiamo avviando verso l'equinozio apriamo il giornale per quanto riguarda la rassegna stampa il corriere adriatico sulla pagina di fano e come poi vedremo anche a pesaro ieri si sono susseguite le iniziative contro la guerra in piazza fano sono scesi in 700 gli studenti per interpretare uno spettacolo sia uno spettacolo per la pace le voci dall'ucraina si sono poi mescolate a quelle degli studenti fanesi fermate la guerra è stato il leitmotiv che ha caratterizzato questa iniziativa sono state mobilitate le scuole con balli canti pittura e le parole di don volodmir che è il responsabile il sacerdote cattolico di rito orientale che a sua volta è rimasto colpito dalla grande attestazione di solidarietà dall'abbraccio che la città di fano ha fatto appunto agli ucraini ho ascoltato parole forti ha dichiarato un momento molto bello sono sicuro che si troverà la strada della pace noi abbiamo uno strumento più forte delle armi il dialogo ha detto e al dialogo si affida la soluzione di questo conflitto che vede ormai gli eserciti confrontarsi con tante vittime da diversi giorni vediamo che poi è intervenuto anche il vescovo armando trasarti il vescovo di fano il quale ha esordito i tanti giovani presenti a fare tesoro tutti i giorni degli insegnamenti tratti dal da un momento così bello così bello quello che è stato attestato ieri in piazza da parte del presule anche un invito all'accoglienza senza pregiudizi anche verso profughi provenienti da altri continenti e ovviamente il riferimento esplicito era quello dell'africa quindi non solo dai dai paesi europei perché c'è gente bianca gente con i capelli biondi ma anche dall'africa nera quella con tanti disadattati diseredati che giungono nelle nostre coste e a proposito a proposito di migrazione africana vediamo che l'africa chiama ha istituito un premio in memoria di mamadù vittima del razzismo l'africa chiama partecipa alla settimana antidiscriminazioni con una camminata per domani che verrà organizzata in occasione della diciottesima settimana di azione contro il razzismo chi era mamadù? Mamadù Moussa Baldè era un ragazzo proveniente dal Ghana giunto in Italia nel 2016 all'età di 23 anni che è stato aggredito violentemente da tre cittadini italiani per futili motivi ovviamente covava il razzismo e veniamo invece ai prodotti alle conseguenze del consiglio comunale che si è svolto l'altra sera a Fano si è parlato anche di urbanistica si è parlato di trasformare i diritti di superficie delle abitazioni in pepe e nei diritti di proprietà c'è una occasione particolare che è stata poi convoledata da una nuova normativa ma anche delle decisioni della giunta fanese con uno sconto di questo passaggio tra i due diritti uno sconto del 20% approvata dal consiglio comunale la disciplina che recepisce le ultime disposizioni di legge abitazioni pepe si riduce del 20% il costo per riscattare la proprietà un sogno covato da tanti anni dei proprietari di insomma di coloro che risiedono appunto in queste abitazioni appalti riservati Fano insegue sempre Pesaro si è dibattuta anche la vicenda della cooperativa contatto in consiglio lunedì ci sarà un incontro con l'aset che ha applicato la legge ma secondo l'opposizione poteva così perseguire cammini anche diversi e poi si è parlato della ricostruzione delle carducci tutto bloccato da due anni e una unica novità un incontro che è stato fissato la prossima settimana dove si farà il punto della situazione e poi ieri pomeriggio a Fano si è svolto un incontro sull'inizio dei lavori al Sant'Arcangelo dove verranno realizzati il museo del carnevale e la casa della musica sembra di entrare in un videogiochi a guardare le slides che sono state proiettate ieri nella sala verdi gremita di pubblico dove l'ex assessore alla cultura Stefano Marcheggiani il sindaco e poi altre personalità c'era anche Ivan Tognozzi il project manager di questa situazione hanno illustrato cosa diventerà il palazzo Sant'Arcangelo quando verrà trasformato il museo del carnevale casa della musica sono obiettivi che saranno realizzati molto molto presto tanto che la casa della musica dovrebbe essere pronta per la fine di quest'anno mentre il museo del carnevale la fine dei lavori è prevista nel 2023 colori fantasia e innovazione tecnologica veramente una rivisitazione molto drastica molto fantasiosa fatta dall'architetto Italo Rota che ha usato molta tecnologia e molti colori perché il carnevale è colore e gioia e fantasia e passiamo ora a Fossombrone a Fossombrone si cerca di fare di tutto per risparmiare soldi data la crisi del caro vita che sta coinvolgendo anche gli enti locali e sono stati autorizzati in centro storico pannelli e coppi fotovoltaici li vedete qui magari i pannelli fotovoltaici provocano un impatto ambientale piuttosto considerevole è un impatto che invece viene mitigato dai coppi che sono come tutti i tetti insomma che però hanno questi pannelli fotovoltaici vedete qui una fotografia è un atto innovativo della giunta per venire incontro alle esigenze del caro energia e poi nel territorio si parla anche di nuove elezioni scadono i mandati dei tornate amministrative e per terre roveresche si candida l'ex sindaco di barchi sauro marcucci che ha 56 anni è stato anche presidente dell'unione che pertò al nuovo comune tant'è che poi barchi si è fuso in terre roveresche e sauro marcucci è consulente azientale tributario una lunga carriera politica al servizio della comunità primo candidato ufficiale a sindaco di terre roveresche ha iniziato l'attività a 23 anni nel 1989 come assessore al comune di barchi poi vice sindaco per due consigliature e poi capogruppo di minoranza ha ricoperto anche l'incarico di assessore alla comunità montana del metauro in diverse tornate amministrative con la delega tra le altre ai servizi sociali insomma una personalità che ha grande esperienza e poi vediamo ancora sulle corriere adriatico la pagina di senigallia dove si parla di viabilità non ci sono notizie di cronaca questa volta sulla pagina almeno sulle edizioni di pesaro delle corriere adriatico dove si parla di senigallia lungomare da vinci via ai lavori finalmente torna il doppio senso si parla di bitumatura e lo si fa ha detto l'assessore regine prima che aumentino i prezzi anche sulle asfaltature asfaltiamo il più possibile prima dei rincari ha dichiarato ebbene verrà ripristinato dunque tra non molto il doppio senso di marcia sul lungomare da vinci nel tratto compreso tra il circolo fratelli bandiera e il sottopasso di via galilei un intervento che non dovrebbe comportare troppi disagi alla circolazione perché verrà garantito dunque il passaggio nonostante i lavori che verranno fatti in due tempi per lasciare libera magari lo spazio di una careggiata sulla pagina della regione si parla un po in tutte le località del nostro territorio del caro vita caro vita che colpisce in modo particolare due settori quello del trasporto pubblico e qui vediamo del trasporto pubblico ma anche il trasporto privato e qui vediamo come l'economia delle fonti energetiche degli automezzi sia ormai in ginocchio l'autotrasporto in bilico c'è chi ha spento i motori e chi organizza la serrata il settore è ormai a collasso i prezzi dei carburanti sono andati alle stelle e ormai andare in macchina o in camion è veramente un lusso e poi c'è anche il settore della pesca che langue ieri c'è stata una manifestazione in Ancona molte marinerie proseguiranno lo sciopero ovvero il disarmo delle imbarcazioni perché il gasolio ormai il costo del gasolio supera ormai le entrate che si faranno con le pescate pescherecci ancora fermi oggi c'è il summit decisivo e ieri incontro ad Ancona delle marinerie italiane la maggioranza insiste sulla protesta le marche sono intenzionate a seguire la linea dura ma è previsto un altro confronto si cerca almeno di ridurre drasticamente le accise che gravano sulle carburante dato che il costo per il rifornimento quello è difficile che venga abbattuto. Veniamo ora alla pagina di Pesaro dove si continua a parlare del caro vita in questo caso si parla dei prodotti cerearicoli grano farine bollette l'impennata dei costi per il pane per il pane un rincaro bis soprattutto per la pezzatura da un chilo anche per la pasta c'è l'incognita dei prezzi più che nella disponibilità delle materie prime insomma nella lavorazione poi ci sono diverse dichiarazioni in questo senso c'è benvenuto Pagnoni dell'asso panificatori il grano c'è ma non ci saranno problemi di farina ma nessuno riesce a garantire il prezzo e poi Francesco Toriani della cooperativa Montebello i pastifici che lavorano in filiera a noi sì lo spieni mentre gli altri si dovranno rivolgere al mercato Claudio Calevi della Col di Retti ribatte facile prevedere che in autunno gli ettari da dedicare alla cerealicoltura aumenteranno e poi per gli agricoltori italiani della CIA Gianfranco Santi il peso del costo del grano sulla pasta è di 15 centesimi quello che incide è il resto quindi veramente tutto quello che sta a monte della produzione e si centellina il magazzino anche per mense e ristoranti alle prese con gli aumenti è un aumento che poi si ripercuote a catena dalla produzione alla distribuzione scaffali alimentari presi di assalto una corsa esagerata poi dilaga anche la psicosi del caro vita e qualcuno pensa che per la mancanza poi di prodotti che possono verificarsi nei supermercati poi ci sia penuria dei generi soprattutto quelli di prima necessità una giornata campale quella di ieri nei supermercati c'erano carrelli stracolmi persone intemorite cassiere commessi sembra di essere tornati hanno detto nelle 2020 quando improvvisamente è dilagata la pandemia dai consumi alla pace la pedalata vale il doppio e ieri pesaro ha manifestato ha manifestato in piazza inneggiando alla pace ma anche con una sbiciclettata con il sindaco matteo ricci in testa in bici con il sindaco per invitare al risparmio energetico e al modello green l'iniziativa l'ho dedicata ha detto a daniele tagliolini in piazza candele anche per l'ucraina e per quanto riguarda daniele tagliolini vediamo qui un articolo di tanti di tante personalità che hanno manifestato il loro cordoglio per la scomparsa di questo amministratore che è deceduto l'età di 44 anni per un male incorabile il presidente della provincia paolini ricorda tagliolini tanti sindaci oggi all'addio apeglio il mondo della politica e non solo fa fatica veramente ad affrontare il vuoto lasciato da questo personaggio amministratore politico di unica onestà e gentilezza così viene descritto daniele ha lasciato un vuoto anche negli amici nelle persone che lo hanno conosciuto e che ne hanno un ricordo bello e trasparente poi vedremo anche altre personalità che hanno espresso il loro cordoglio per questa improvvisa scomparsa porta capocina il compromesso accordo se si ritira è ricorso al tar la commissione comunale di controllo e garanzia ha affrontato ieri il problema ha affrontato il noto della sosta la posizione del privato l'amministrazione comunale si è detta disposta a tornare indietro e chiudere l'accordo con i privati solo nel momento in cui questi ultimi ritireranno il loro ricorso al tar la società privata ha infatti ricorso al tribunale amministrativo chiedendo un milione di euro di danni e impugnando la revoca della determina ricorso che al momento comunque è stato sospeso un accordo occorre dunque si invastisce soltanto se c'è questa azione preventiva casa damiani il focolaio si allarga è scoppiato un focolaio di covid a casa damiani il distretto dice per fortuna si è stabilizzato comunque otto i positivi da otto i casi poi sono saliti a 36 con tre anziani in ospedale 11 sono addirittura operatori quindi veramente una un contagio che si è fatto molto molto intenso e pressante a questo punto vediamo la pagina di valle foglia dove c'è una notizia di cronaca trovato senza vita dentro il bagno dell'azienda dove stava lavorando si tratta di un 38enne probabilmente stroncato da una overdose e la seconda vittima in 10 giorni per quanto riguarda urbino invece si parla di sanità c'è una intervista all'assessore alla sanità e al sociale elisabetta foschi il quale parla appunto della situazione ospedaliera e del risultato del suo mandato ho trovato servizi sociali ubicati all'ultimo piano di un comune che aveva gli unici servizi igienici a metà scalinata dell'ingresso principale ha dichiarato una situazione inaccettabile e rispettosa così ho rinunciato alla stanza allora assegnatemi come ufficio chiedendo che vi fossero realizzati almeno i bagni per il pubblico e poi si parla di altre innovazioni in questa intervista come quella dell'apertura della casa delle vigne di un centro dove si presta accoglienza a persone affette da alzheimer e poi l'ampliamento della casa di giango la casa del dopo di noi e poi c'è anche l'appuntamento con la disabilità sei tu che vali insomma diverse iniziative di carattere non solo sanitario ma anche di carattere sociale che hanno caratterizzato l'impegno politico di elisabetta foschi veniamo ora il resto del carlino sulla pagina di fano dove l'apertura è dedicata alla manifestazione che si è svolta ieri in piazza 20 settembre un'invasione di pace la lezione degli studenti centinaia di ragazzi fanesi in piazza il vescovo trasarti le guerre sono sempre schifose l'ha detto papale papale sono schifose anche quelle intestine razziste attenzione non solo quelle combattute tra gli eserciti ma quelle anche generate dalle superstizioni da certi principi che non sono poi veramente di valore etico sventolano le bandiere ucraine l'appello non abbandonati ci vediamo due momenti della manifestazione che si è svolta ieri in piazza a fano la fabbrica del carnevale prende forma ieri appunto si parla di questo incontro che si è svolto nella sala verdi del teatro della fortuna ai fanesi è stato chiesto di collaborare alla costruzione del museo del carnevale mettendo a disposizione il materiale in loro possesso qui vediamo una fotografia di quello che diverrà col piano inclinato il nuovo sant'arcangelo questo è l'interno del cortile terre roveresche marcucci scende in campo sarà l'ex primo cittadino di barchi il competitor con di antonio sebastianelli lo attuale sindaco che ha riproposto appunto la sua candidatura e accoglie al loro brucia la caldaia esterna evacuata una famiglia è accaduto ieri sera alle 19 a calcinelli le fiamme hanno distrutto anche l'impianto idrico e l'impianto elettrico a urbino nuovi collegi universitari forse a pian severo l'erdis sta valutando le offerte arrivate con un bando l'ipotesi è quella della ristrutturazione degli alberghi piero della francesca e monte veli monte feltro gli effetti della siccità non stanno calando l'analisi dell'osservatorio serpieri dell'università di urbino l'inverno è nella media storica ma l'acqua mancante rimane quell'acqua che è mancata nella scorsa estate quando la stagione è stata caratterizzata da una lunga siccità rimane un problema appunto quello del rifornimento idrico sulla pagina di pesaro invece vediamo come l'ucraina sorge dalla città con tutta la sua evidenza ma soprattutto dobbiamo dire che la città che sorge sulla guerra dell'ucraina con tutto il suo appello alla solidarietà all'aiuto a questa nazione tormentata la pedalata in piazza e le candele per la pace pesaro non può girarsi dall'altra parte una scritta luminosa pace è apparsa appunto in piazza del popolo a pesaro e poi ancora la vicenda di quella studentessa ucraina con una bambina di tre anni una ventunenne che è fuggita dal suo paese ha raggiunto la mamma che fa la badante a pesaro però ha bisogno di un locale di un appartamento per risiedere dato che non può stare con la mamma che è alloggiata dalla famiglia che assiste Anna può studiare da noi lo ha detto il rettore della università di urbino calcagnini dopo l'appello della profuga pronti a convertire il piano di studi ha detto e c'è anche un'offerta a un'offerta che arriva da monte gaudio per quanto riguarda la sistemazione logistica di questa giovane e anche borgo santa maria si mobilita per i profughi il gesto della piccola emma una bambina che ha regalato un suo giocattolo a un altro bambino sconosciuto appunto nell'ucraina portate questo giocattolo a un bambino come me ha detto la piccola emma la tua politica fatta di impegno e di amicizia era la politica di daniele tagliolini e qui vediamo nella fotografia con un volto già segnato dal male che lo stava divorando purtroppo tanti colleghi ricordano daniele tagliolini la riconoscenza della sua peglio dove oggi alle 10 e 30 si svolgeranno i funerali parlano cristina belpassi sindaco del paese parla anna gennari già dirigente scolastico parla margherita pedinelli ex sindaco di san costanzo e poi hanno divulgato tante altre persone note di cordoglio la deputata alessia morani il presidente della provincia giuseppe paulini la senatrice a coto e i sindaci di urbino gambini pesaro matteo ricci valle foglia palmiro occhielli il vice presidente del consiglio regionale andrea biancani il sindaco di fano massimo seri tante altre personalità che hanno perso non solo un collega ma anche un amico e poi una notizia importante e monsignor coccia arcivescovo di pesaro sta per terminare il suo mandato e la città è in attesa di un nuovo arrivo di un nuovo vescovo chiesa sono i giorni delle scelte atteso il nome dell'arcivescovo oggi i sacerdoti sono stati convocati alle ore 12 sullo sfondo anche l'ipotesi di una carpa di un accorpamento con urbino le diocesi di pesaro e di urbino potrebbero essere accorpate monsignor coccia è giunto ai saluti il sostituto potrebbe arrivare da fermo dove è atteso un altro annuncio ebbene si fanno delle ipotesi perché i candidati sono diversi vediamo quali sono i nomi che sono in lista tra i nomi accreditati c'è quello di don sandro salvucci docente di teologia morale all'istituto teologico marchigiano nei giorni precedenti era circolato anche il nome di don paolo canale responsabile della pastorale giovanile un altro nome che viene accostato da fermo a pesaro è quello di don massimo fenni 45 anni parroco di sant'anna è una delle più popolose diocesi di fermo e poi quello che ormai è certo è che la missione di monsignor piero coccia pesaro sta terminando anche lui andrà in pensione vediamo ancora il giornale siamo ormai in conclusione anzi siamo già in conclusione non posso leggervi le notizie di sport perché il tempo è scaduto però insomma tutte e due le squadre alma e vispesaro sono in attesa per le gare importante di oggi e di domani e questo è tutto per il momento massimo foghetti vi saluto e vi dà appuntamento a lunedì alle ore 7 buona giornata